salve a tutti eccoci in questo nuovo video per una prova su strada di una nuova vettura questa volta provo la mclaven mp4 12c di classe gt3 questa è stata la prima vettura gt3 arrivata su i racing parliamo di un 3008 v8 biturbo motore derivato da un progetto nissan poi modificato per adattarlo a questo tipo di vettura vi mostro l'abitacolo è una vettura che si presenta molto piccola abbastanza semplice sia nell'abitacolo vedete tutto il roll bar e anche abbastanza minimalista ci sono poche funzioni rispetto ad altri tipi di vetture anche di categoria uguale anche volante molto semplice pochi pulsanti poche funzioni tutto il diciamo il necessario che serve a questa vettura da un punto di vista di elettronica presenta degli ottimi specchietti con una buona visuale manca lo specchietto retrovisore centrale anche se appunto sarebbe inutile dato che dietro come potete vedere l'abitacolo è chiuso dietro ovviamente c'è il propulsore quindi sarebbe inutile avere un specchietto retrovisore quindi bisogna assolutamente fare affidamento sugli specchietti laterali e su quello che magari può essere l'audio stesso di altre vetture che durante una competizione potrebbero essere dietro di noi abbiamo il quadro anche il display molto semplice molto minimalista avviamo il motore siamo sul circuito di spa franc or sham uno delle piste che più difficile anche da far partire dicevo una delle piste che apprezzo più in assoluto una pista veramente fantastica completa non manca veramente niente soprattutto quello che la spettacolare salita di au rouge ride on un lungo rettilineo che possiamo vedere qui questa è una vettura che nonostante sia una gt ma sa molto di racing sia per quanto riguarda appunto la maneggevolezza la prontezza in curva diversamente dalle dagli altri modelli sempre presente qui è una vettura che qui serve veramente poco angolo volante per fare le curve quindi da questo punto di vista è una una gt particolare diciamo la caratteristica di avere poco angolo volante per fare le curve è un qualcosa che si avvicina più alla guida di un prototipo che che a quello di una gt dunque è una caratteristica che mi piace parecchio sinceramente per essere una vettura di questa categoria di queste prestazioni ma la guidavo da un bel pezzo la macchina è molto pronta i freni molto efficaci questa è la la chicane finale la bus stop andiamo a fare un giro vediamo di vedere le capacità di questa vettura ovviamente come ogni gt quello che sono i piacerementi di carico si sentono molto di più rispetto a un prototipo o a una formula in quanto il peso è maggiore l'apporto aerodinamico è minore anche quello che è ovviamente il telaio le conformazioni la geometria delle sospensioni la vettura assorbe abbastanza bene quelle che sono i cordoli non ha particolari problemi in frenata si sente come si alleggerisce parecchio il posteriore la visuale c'è una cosa che a me piace di questa vettura che riguarda appunto la visuale che offre ovvero è come se il pilota è spostato più in avanti rispetto quello che è appunto la grandezza della della vettura e quindi offre una prospettiva molto interessante si vede parecchio la pista si ha con la sensazione di essere molto bassi quasi come se fosse un prototipo questo ovviamente dipende anche dalla visibilità che offre il cofano anteriore che è veramente quasi invisibile se non per un accenno appena dei passaruota che potete vedere sia lì che lì la visuale è abbastanza libera il suono del motore è abbastanza interessante così come in fase di rilascio che si sentono molti vitoni di fiamma questa curva è sempre qualcosa di strabiliante soprattutto quando si affronta con macchine che non offrono tanto grip sia meccanico che aerodinamico perchè si sente soprattutto arrivati alla rideon come si alleggerisce la vettura per via diciamo della salita che fa diciamo della salita che fa la macchina quindi un alleggerimento della vettura quando va a terminare la salita ed è molto interessante ci sono anche altri tipi di vetture in cui affrontare quella curva è ancora più difficile, ancora più emozionante ora siamo sul rettifilo di ritorno un circuito veramente formidabile direi che questo potrebbe veramente candidarsi come il circuito più emozionante, più bello e più completo al mondo senza esagerare con qualunque macchina che sia lenta, veloce rimane comunque veramente un piacere guidare su questo circuito e di nuovo in discesa per affrontare nuovamente la famosa luce RIDEON la salita che si percepisce è veramente incredibile magari così a schermo non si nota ma è veramente... e quindi mette già paura e non osi immaginare cosa significhi affrontare quella curva nella realtà questa qua è una delle piste la quale mi piacerebbe veramente magari un giorno poter girare veramente queste tornate qui queste tornate qui il rivage crea parecchio sottoscherzo in quanto in discesa questa l'EPUON invece un po' con tutte le GT3 è un punto critico in quanto bisogna inserire la vettura con un leggero... con un... frenando leggermente diciamo così con una leggera pinzata e inoltre è in discesa e in leggera contro... in leggero controprendenza e di lì la vettura tende a scaricarsi parecchio sull'asse posteriore e una cosa simile seppur la curva è diversa accade anche qui alla Plan CIMON che con vettura e formula ovviamente si prende tranquillamente in pieno rientro ai box per concludere questa prova su pista di questa vettura una vettura una vettura veramente parecchio interessante magari eh... difficile da settare per le sue caratteristiche come dicevo prima eh... ha un... un comportamento che probabilmente è differente rispetto alle... alle altre GT3 perché è molto pronta di suo quindi eh... avendo un'anteriore così pronto che inserisce parecchio comporta magari il fatto di non poter affrontare le curve troppo velocemente se non è settata correttamente per via di un posteriore che può risultare eh... anche abbastanza leggero eh... quindi non è una macchina eh... facile dal mio punto di vista eh... risulta comunque molto gradevole da guidare eh... sia eh... eh... per la... per la prontezza che si percepisce al volante eh... sia per l'abitacolo molto coinvolgente molto bello molto semplice e corsaiolo allo stesso tempo eh... anche per il sound veramente particolare non ci sono vetture eh... con un suono eh... simile a questa qui con questo io chiudo spero che eh... eh... quest'altro video vi sia piaciuto eh... se ne avete voglia eh... condividetelo ehm... mettete mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se desiderate seguire altri video che usciranno in seguito grazie di tutto e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti